Ragazzi buongiorno, oggi vi parlo del festival di Sanremo di ieri Intanto è già il secondo giorno e per aprire il concerto, cioè per aprire proprio Sanremo, parte Achille Lauro Achille Lauro su Instagram fece un post dove, ah grazie dell'onore, intanto fino a due giorni fa nessuno sapeva che cazzo era Achille Lauro Quindi famoso sta min... Lo conoscevo per la canzone La Bella e la Bestia, gran bella canzone, arriva a Sanremo, Rolly Royce Ma cos'è sta merda? Regà non è orecchiabile neanche la seconda volta che la senti In più lui è talmente sonato che io non so se si pensava che a Sanremo c'è stava l'auto di uno e il playback o che canzo si era immaginato Che le vecchiette del coro della mia chiesa cantano molto più intonate di lui Achille col tutto il bene che te voglio sei un fregno raro, cioè Però te prego state zitto, cioè Sanremo non è proprio per te, te prego torna a fa trap perché c'è Regà c'è Inar, fino a ieri non sapevo manco che cazzo era e ha fatto da canzone che mi ha mandato talmente tanto un depressing che mi mancava pure l'amichetto mio dell'asilo E poi regà una certa sembrava destasuale perché arriva Pattilla e Loretana Bertè Cioè regà i nuovi mostri di Siccia Notizia sono surgelati quelli, cioè l'hanno appena presi dalla Findus E poi c'era Marco Mengoni e quando il mondo cade a pezzi Io canto peggio da Achille Lauro regà Io compongo nuovi spazi e desideri Cìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Grazie a tutti